il referendum. Armando Lamberti è un costituzionalista, ha fermato molte le sue presenze in ambito nazionale, finalmente torna qui a Cavaretirreni in questo aperitivo culturale, la riforma costituzionale e le ragioni di una scelta. Brevemente, Armando Lamberti, cosa andrà a dire e soprattutto quali sono le sue ragioni? Facciamola anche Gabriele a casa. Dirò soprattutto che un Paese non si può dividere sulla carta costituzionale. Noi riteniamo che ci siano tante buone ragioni per votare sì al referendum costituzionale. Innanzitutto l'esigenza di assicurare un procedimento legislativo decisamente più snello, che significa, come dire, lavorare per una democrazia decidente, che al tempo stesso però non rinuncia alle garanzie di una democrazia dibattimentale. C'è sostanzialmente anche una nuova ripartizione delle competenze tra legislative, tra Stato e Regioni. Un risparmio dei costi della politica. Noi riteniamo che questo referendum possa essere una grande occasione di partecipazione. Dipende molto da noi, dipende anche da tutti coloro che si sentiranno impegnati in questa campagna referendaria. Al di là dell'incontro che ci sarà domani pomeriggio, dove si parlerà del sì, quali le ragioni del sì, in parte di capire che Vincenzo Servali è sicuramente uno dei fautori per il sì da sempre, no? Questa riforma della Costituzione, che certo non è una riforma perfetta, ma è ed esprime un bisogno di andare verso il futuro e quindi verso il cambiamento e quindi verso le future generazioni. Io proprio per questo sono impegnato in prima persona, al di là del ruolo di sindaco che ovviamente è quello che è lì e rimane, ma sono impegnato in prima persona in questa campagna referendaria per il sì, sperando che il sì possa prevalere.